Mentre le passeggiate dei dodici astronauti, poi supportate dai roberi, poi imponevano di ripensare la fantascienza, i loro voli hanno fatto spiccare un bacio inatteso all'ecologismo e alla forza del messaggio. Non passa il giorno che non ci si imbatti in una riproduzione di Earthrise, l'iconica fotografia della Terra che sorge dal profilo della Luna e che fu scattata dall'Apollo 8. Il pianeta galleggiene un cielo nero, piccolo e fragile, bellissima nel suo patchwork di azzurro e bianco. Sembra volersi sottrarre l'abbraccio del proprio satellite e di quel suolo arido, che in primo piano si rivela sgradevolmente marrone. Già nell'aprile del 70, oltre un anno prima di Apollo 11, quella immagine era entrata a far parte del corredo iconografico della giornata mondiale dell'Heart Day. Nessuno può dirsi immune da un tronfo dell'anima quando fissa quella meravigliosa pallina nel nulla, la nostra bistrattata Terra. Per la rivista Life si tratta di una delle poche foto del secolo. Era il dicembre del 68 e l'Apollo 8 era la prima navicella a lasciare l'orbita terrestre per entrare in quella lunare generando uno spaisamento che Asimov, Bradbury e Clark non erano riusciti a suscitare. Con loro e prima di loro inossati, a maturare era stata l'attesa. L'elenco di chi ha sognato il viaggio sulla luna è lungo, così disorientato da intrappolare un elettore in un labirinto di avventure. Nemmeno all'epoca di inizio è chiara, ma è il 600, il secolo che segna l'alba della scienza moderna. .